È un lecchese il nuovo presidente di ACSM Agam, la multiutility del nord della Lombardia, 900 dipendenti e un fatturato annuo di circa 400 milioni di euro, nata nel 2018 dalla fusione delle società del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica e dei rifiuti di 5 province. Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato la nomina alla guida della società di Marco Canzi, 51 anni di Olgiate Molgora, Canzi è dottore commercialista e revisore contabile, esperto di procedure concorsuali presso il Tribunale di Lecco. Si occupa da anni di servizi pubblici, è stato vicepresidente della stessa ACSM Agam nel mandato 2018-2021 e precedentemente consigliere di amministrazione di Ilario Reti Holding. Vicepresidenti saranno il numero uno uscente Paolo Busnelli, quota Monza, e Nicoletta Molinari, quota Como. Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino al 2023. Contestualmente l'Assemblea ha approvato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2020. L'azienda ha subito impatti complessivamente contenuti, dimostrando importante resilienza agli effetti della pandemia. Questo risultato, spiega la società in una nota, è stato conseguito grazie alla diversificazione delle proprie attività, costituite in gran parte da servizi essenziali, al fatto che alcune di esse sono regolate e quindi potenzialmente non soggette a volatilità, infine alle azioni promosse con il fine di contenere gli impatti dell'emergenza. Il risultato netto riferito all'esercizio 2020 risulta positivo e pari a 17,9 milioni, in minima flessione rispetto al 2019, 18,6 milioni. Lo scorso anno sono stati realizzati investimenti complessivi, all'ordo delle dismissioni, pari a 73,2 milioni rispetto ai 60,9 del 2019. Un'attenta ripianificazione delle attività, dice l'azienda, ha consentito di recuperare l'iniziale rallentamento conseguente al lockdown. L'Assemblea dei Socii ha infine approvato all'unanimità la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a 8 centesimi di euro, che verrà messo in pagamento il 23 giugno 2021. Si tratta di circa 3,7 milioni di euro per i comuni delle chiese, che tramite la società pubblica Lario Reti Holding sono i secondi azionisti del gruppo ACSM Agam dopo A2A.